Qui è iniziato da 20 giorni, sono i sondaggi che stiamo facendo grazie a un finanziamento della regione Liguria che avevamo chiesto subito dopo l'alluvione capendo come abbiamo fatto a Mendattica che solo facendo i sondaggi si può arrivare poi a eventualmente preventivare delle soluzioni se ci saranno per questa frana che ha colpito la frazione di Mones di Mendattica. Stanno facendo dei sondaggi, questo è uno dei primi, ne hanno già fatto altri due, adesso stanno facendo questo poi si sposteranno in altre diverse zone del paese e della frazione indicate dal geologo nei punti strategici giudicati dal geologo e da questi sondaggi poi verranno esaminate le carote che escono fuori di quello che è nel sottosuolo, poi verranno messi dentro della strumentazione che sono pieziometri per il livello dell'acqua e inclinometri per l'inclinazione del terreno e da cui verrà fuori un modello geologico che permetterà ai geologi e agli ingegneri di studiare gli eventuali interventi che si potranno fare per mitigare il rischio di frana o speriamo un consolidamento. Sinaco, ieri in regione avete firmato un protocollo d'intesa, di che cosa si tratta? Sì, ieri è stata una giornata molto importante che ci siamo arrivati dopo diversi tavoli tecnici abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Regione Liguria, Regione Piemonte, la provincia di Cuno la provincia di Imperia, il comune di Triora e di Briga Alta un protocollo d'intesa volto a dire chi fa cosa per la problematica non solo di monesi di Mendatica ma monesi di Triora e Briga Alta, compreso il ponte c'è un'attenzione a tutta la zona perché è la zona più disastrata che ha avuto dei danni enormi c'è una grandissima attenzione della Regione Liguria, un impegno forte e quindi che ringraziamo e anche di tutti gli altri enti c'è una collaborazione molto stretta quindi poi la cosa principale anche di questo protocollo d'intesa è la realizzazione di questa bretella di strada questo chiamiamolo bypass per poter di nuovo riattivare la circolazione anche se subito non sarà totale comunque è già stato fatto uno studio di fattibilità di questo progetto che adesso bisogna portare avanti con tutelità burocratici che purtroppo speriamo di avere qualche deroga che vengano snellite in qualche modo per darci la possibilità di fare presto perché purtroppo da questo lato siamo abbastanza minati nel senso su quello da fare la strada partirà da questo piazzale e saranno fatti interventi soprattutto di terra piena di cose senza andare a scavare appunto visto che una parte è nella zona infrana comunque a supporto di questa strada saranno i risultati dei sondaggi che diranno appunto la fattibilità anche la tranquillità di fare questo passaggio logicamente questo è un impegno forte che si è assunto il comune di Mendatica perché adesso sarà compito del comune di Mendatica portare avanti questo con l'aiuto degli altri enti le amministrazioni ci stanno mettendo tutta e anche la regione e la provincia e tutti quanti anche se sembra sempre che non si muova niente, che non si faccia niente ma vi posso assicurare che si sta lavorando e quindi però io dico non solo devono esserci un impegno le amministrazioni, tutti quanti dobbiamo essere i primi però comunque ci va anche tanta collaborazione da parte delle persone, dei privati che comunque hanno subito un danno enorme non solo nelle cose materiali ma anche penso dalla punto di vista del cuore perché tanti hanno qua tanti ricordi e quindi noi vogliamo tutti che rinasca tutta questa zona che riparta meglio di prima però logicamente i sacrifici dobbiamo farli un po' tutti e dobbiamo renderci conto che questa situazione è una situazione gravissima e molto difficile da gestire questa resta una zona rossa, c'è l'ordinanza adesso sicuramente per un po' di tempo nelle abitazioni non si potrà stare perché comunque finché dai sondaggi e dai monitoraggi non verrà fuori quel modello geologico con cui i tecnici possono avanzare delle ipotesi oppure delle certezze da dire sì, si può stare, non si può stare ci va ancora un po' di tempo purtroppo ci vanno gli studi e non è una questione di lentezza o di non volontà e sono proprio tempi che richiedono noi abbiamo avuto purtroppo già molta esperienza mendattica che è dal 2006 che stiamo tribulando con queste situazioni dal 2011 fino al 2014 abbiamo avuto dei danni enormi però gli interventi che siamo riusciti a fare hanno risolto alcuni problemi quindi ci va tempo e bisogna capire queste cose bisogna un po' anche a volte medesimarsi in chi è da questa parte che sta cercando di trovare le soluzioni grazie 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 grazie